Salute e generosità fanno ancora rima a Viareggio, dove per il terzo anno consecutivo è tornato l'uovo sospeso, campagna promossa dalla fondazione Ant Italia Onlus e sostenuta da Pharmae. Presso gli uffici dell'azienda Viareggina, leader nelle vendite online di parafarmaci, si è svolta la consegna di 85 uova di Pasqua, destinate a 5 realtà storiche del tessuto sociale cittadino, l'Istituto De Sortis per minori orfani, gestito dalla misericordia, la Casa Famiglia Comunale di Via della Gronda, con la cooperativa Odissea, l'Arca Casa Don Beppe Socci della cooperativa Crea, l'Istituto Sacro Cuore per Anziani e infine il Centro Antiviolenza l'una per l'altra. Pharmae Group cerca nel suo limite di essere sempre vicini a queste iniziative, specialmente sul territorio. Noi siamo un'azienda che è nata a Viareggio e ci teniamo a tutte queste iniziative benefiche sul territorio e noi siamo sempre pronti e disponibili per ne portarle avanti. La Fondazione Ante l'obiettivo è quello il solito, soprattutto in primis di curare gratuitamente e domiciliarmente i terminali oncologici, poi naturalmente si occupa anche di visite di prevenzione oncologica per mammella, melanoma e tiroide e siamo presenti a Viareggio con un negozio Charity che serve sempre per raccogliere fondi per la Fondazione.